Non funziona tanto bene questo orologio, eh? Lo sapete? Hanno trovato delle basi missilistiche vicino alla città. Hanno trovato delle basi missilistiche vicino alla città. Sparta! Sparta! Non la base missilistica, dove si trova la stazione di controllo dei missili, credo. E quindi, trovato quel posto, andremo lì e faremo... Lanceremo i missili per distruggere i tizi oscuri. Più o meno. Va bene. Metti su. Questo mirino è pulito! È abbastanza un miracolo, eh? Oddio, la verità. Si va. Ok. È addirittura 40 munizioni per caricatore. Credo siano il doppio rispetto a quell'altro. Headshot. Ottimo. Pochissimo rinculo. Potrebbe essere la mia arma definitiva. Ta-ta-ta-ta-ta. Vabbè. Senza scherzare. Mi sembra veramente un'ottima arma. Può andare dritto, anche se c'è un passaggio. Wow! Wow, wow, wow. Wow. Ho rischiato grosso. Perché non riesco a saltare? Ott. Fatto. Dove cazzo rola sono finito? Ecco, morto. Ero finito tipo in un buco. Una roba del genere. Grazie... Ah, sì, va bene. Sì, mettiti la maschera. C'è un tipo che spunta fuori là. Eliminato. Allora. Allora, sto ponte è mezzo distrutto. C'ho... Ah! Ah no, si distrugge mentre passo io. Dannazione. Ecco perché mi sembrava integro. Merda! Merda! Ho un'idea. Rush! Direi di fare una bella rasciata. C'è un bello scatto fino alla salvezza. Ah, ricarica. Ciao. Per fare lo stesso errore un'altra volta. Mi son salvato al culo. Ma fottiti. Ma fottiti. Au, au, au. Porca cazzozza se era radioattivo. Merda. Ho pure sbagliato strada. Rush! Perfetto. Da che lato? Di qua. Ah, ok. E la libreria? Sembrerebbe esteticamente una libreria. Per lo meno, guardandola da lontano, io direi che è una libreria. What? Perché mi vogliono killare in questo modo? Hey! Hey! Uh! Come siamo messi a munizioni? No, mi sembra... Filmato. Oh, caricamento. Oh, entrambi. Caricamento. Library. Ottimo. Tu non hai niente? No. La maschera anti-gast non la posso togliere, vero? Boh. Oh, no. Sembra di sembra di niente. Aspetta, ma no. Un' numero di boi chevi è venivo per uscire. Oh, mi sembra di... Ah, hai niente! Ah, hai niente! Questi, ma? justi! Ok Ehi credo di aver capito come funziona questo Cioè no se l'ho capito veramente è un miracolo Lol Ma dai non dirmi che Ah ok c'è tipo un mobiletto che la blocca Ehm direi di andare di qua Visto che è aperto What the fuck Au 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 What the fuck Bistrelli Ma si I'm freaking headbusters Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Scusi, eh. Signora, porta? Mi fa cortesemente passare? No. Questa ovviamente è chiusa. L'unica porta apribile è questa. So che per qualche strano motivo non mi vuole far passare. Direi che devo andarci giù pesante. Aia. Non ho capito cosa è successo, però vabbè. So. Alla via. Mi sa che ho sprecato munizione e basta Io vi giuro non ci sto capendo più un cazzo Perchè dovrei andare io? Cosa è sto rumore? Tipo Cosa è sto Qualcuno mi spiega quali istanze dovrei controllare? Come mai posso vedere attraverso le porte? Ah ok Credo che... ok Tizio morto Che diavolo di arma? Ah il fucile Quello di precisione Piante Un buco nel muro Parkour style Becces È chiuso Cioè io ci sono passato oltre ma è chiusa Cominciano a vedere un tubo Oh alleluia cambia filtro perchè mi stava facendo sclerare Questa porta è chiaramente chiusa ma posso come sempre vedere dall'altra parte Sì ok io sono arrivato dall'altra parte Però la porta è chiusa It won't budge What the fuck Devo andarci giù pesante un'altra volta Granata Giuro che se funziona di nuovo No Niente da fare Ma che... Ma che ca... Boh Nooo Ma anche se io riuscissi a saltare lì poi che cavolo dovrei fare? Ok mi sono perso A tra poco Ok Rieccoci Tranquilli Non ho citato Non sono andato a guardare sulle guide online per capire cosa dovevo fare State tranquilli Non l'ho fatto E anche se credete che io l'abbia fatto Non l'ho fatto Può testimoniare lui Appena preso Oddio Oddio Capisci quanto è doloroso Od Od Scusa No Questo tipo è inquietante Posso sparargli Cosa? Oddio Bibliotecari? Gli alieni sono alcuni dei più pericolosi da qui Se ti incontri uno Non lo so 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 E' una cosa che ti attacca Se guardarli in l'aria Ma ricordate Non lo so Non lo so Non lo so Ti mostri Ti mostri Ti mostri Ok? Se il tuo beast Si tratta nervoso Andi Ma Scusa E se lo so E se lo so Eh? Non lo so 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 Oh mio Dio Sono così pericolosi Dov'è? Au! No! Oh mio dio Quel tavolo ha fatto un 360 Della madonna Arriba! Arriba! Ok, resta bene Artyom Mi devo prendere a Polis Tu devi trovare una mapia自身 Qui c'è la piastra La entrata del archivio militare C'è la prima piastra del magma La porta che aveva fatto Lleva lì Non c'è tanto tempo L'unico è venuto Sono fottuto Oddio Allora Guardarli Sempre Negli occhi Non Lasciarli Andare Però questo lo vedremo nella prossima puntata Perché Termino qui questa sessione di registrazione Se vi è piaciuto vi invito a lasciarlo A me il mi piace Ci vediamo nella prossima puntata Bye bye